Ragazzi, io vado a casa a prepararmi, ti ci vediamo stasera. Va bene. Ah, e vien te lo dati, eh? Eh? Ciota! Ma che ragazza simpatica! Mi piace farvi gli scherzi. Comunque, oh, ci vediamo dopo, eh? Ah, Roby, qual è il tuo supereroe preferito? Ehm, Spider-Man, perché? No, niente. Anche il mio. Ok. Ti piace Spider-Man, eh? E pigliati il ragno, uoh. Ti odio, ti odio! Dai, Roby, è finto! Comunque, puoi sempre il ragno darti. Eh? Ciupa! Ciao, bella! Bella, mi hai visto il mio telefono. Lo trovo. Lasci sempre in giro tutto, ma per fortuna ci sono io con... Ma stai scemo! Ah, ah, scherzone! È finto! Il vero telefono è qui? Ah. Oh, porca troppo! Jay, non dirlo a nessuno, ma l'ho beccata qui a Varese. Ma chi? Sì, sì, sì. Oh, se fai una corsa, posso farti conoscere Chiara Ferragni. La Ferragni? Davvero? Eh, quindi vieni? Eh, corro, mandami la posizione. Ok, ti mando la posizione. Allora, arrivo. Ta-da! Hi, guys! I'm Chiara! Oh, my God! Ma è tua nonna in parruccata! Scherzone! Ci sei cascato! Che simpatico, eh! Ma va a cagare! Baby, stasera sono tutta tua. Mia? Proprio mia? Sì, dai, ti prego. Voglio giocare con te. Adesso ti bendo e ti bacio tutto. Oh, sì. Bendami tutto! Oh, sì, amore, sì, sì. Sì, amore, ma che cosa hai mangiato? Sembra un po' un panettone. Zitto! E slinguami come una mucca con l'erba. Che voce strana che hai, amore. Io non... Ah! Dai, rimuono, mi duro, dai! No, 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 vada via! Mi lascio stare! Ma ti va di venire a vedere Alberto Angela con me? Ma sì, dai! Ok. Stiamo scoprendo le meraviglie del cuirinale. Dove iniziate la... Ma cos'è sta roba? Ti giuro che prima c'era Alberto Angela. Sì, Angela è la baldracca. Dai, togli sto schifo! E ci siamo... Non è niente! Non è niente! Non è niente! Non funziona! Non funziona! Dan, ordiniamo una pizza stasera? Ma che pizza è pizza? Stasera ti faccio una parmigiana di melanzane fatta in casa. Vedrai che squisitezza. No, Dava, ma non disturbarti. Ma no, ma nessun disturbo! Stai tranquillo, vai pure di là! Ti chiamo io quando è pronto. Sì, ma mi raccomando! Sì, sì, tranquillo, Jay! Fidati, sono uno chef professionista. Vai pure, vai! Vediamo! Ma cos'è sto fumo? Dan? Tutto bene? Dan? Ma cosa fa? Oddio, ma cosa hai fatto? Ma cosa hai fatto? Ma aiuto! Aiuto! Moriremo tutti qui, Jay! Aiuto! Vado da fuoco! Aiuto! Ma tu sei un deficiente! È un deficiente! Eh no! Quello sei tu! Ta-da! Ah, la macchina del fumo! Ma che sei proprio un idiota, eh! Ma scusami, ma per l'odore di bruciato come hai fatto? Odore di bruciato? Ma quell'odore di... Oh, c... Oh, Jay! No, Tiziona, sono qui con Sfera e Basta! Sfera e Basta? No, ma che non mi freghi! Non è come l'altra volta che mi fai lo scherzo! No, no, no! Ti giuro che questa volta è vero! Ascolta, riesco a trattenerlo ancora per poco se fai una corsa! Eh, va bene, coro! Mandami la posizione! Ta-da! Saremmo ricchi! Ricchi per sempre! O forse no! Vabbè, fa niente! Dai, ma è un cinese travestito! Scherzone! Che scherzone, scherzone! Ma che scherzone è? Dai, sei proprio un demente! Ma che demente, demente! È il sosio ufficiale! Diglielo! Saremmo ricco! Ricco per sempre! O forse no! Vabbè, fa niente! Io ho grandissimo, fratello! Vedi? Jay, vieni con noi in centro? No, raga, lo sapete, oggi sono con Roberta! Vai, però... Una voglia! Dai, la mia ragazza, lo sapete! Dai, facciamo un'altra oltre, non vi preoccupate, eh! Ciao, belli! Ciao! Ciao! Amore, che bello stare qui con te oggi! Già, non potrei chiedere di meglio! Ops, che sbagliata! Beh, cosa guardi? No, niente, amore, stavo ammirando questo bellissimo culturale paesaggio, ma che monumenti che offre gallanate! Amore, si sa che... Ma quali monumenti? Mi fai schifo, sei un porco! Ma no, amore, aspetta, amore! Beh, adesso si assi con i tuoi amici? Ma guarda, testi infatti! Ma io vi ammazzo! Ma io vi ammazzo! No, no, aspetta! No, no, no! Ragazzi, devo uscire con Ale, come sto? Eh... Ehm... Bene, Roby, eh? Sì? È solo che hai un... Hai una roba lì... Oddio, dove? Lì, lì, sopra il labbro! Ma che cosa? Lì, ma non so che cos'è, sembra un pelucchio, aspetta che te lo tolgo io! Et voilà! Perfetta! Ora sei benissimo! Allora, son bella! Memavigliosa! Un ficonen della madonnen! Perché farlo così? No, niente! Andaren, andaren! Appuntamenten! Vabbè, grazie, ragazzi, io vado! Ciao, Ale! Oddio, Hitler è tornato! Oddio! Ma come Hitler? Così avete usato? Si calmi, signor Fure! E mi distruggo! Questo ci stermina! Oddio! 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 Che figata rivedervi, veramente! Però dopo andiamo a far serata, eh! Dai, ci sta! Però questa volta fui tu, eh! Dai, stavolta fa! Bravo, gente! Solo per questo ora, grande! Vabbè, raga, io vado un attimo in bagno, eh! Ok, va bene, va bene! Buongiorno! Buongiorno! Oh, oh. Bella cena, vero? Il posto migliore dove abbiamo mangiato. Ma perché mi hai portato qui? Sei unica, lo sai. Ormai sono tanti anni che siamo insieme. E proprio l'altra sera stavo pensando vorrei mai avere altre persone nella mia vita al di fuori di te. La risposta è no. Io ti amo. Anch'io ti amo. Ti amo come il primo giorno. E mi sento emozionato come un bambino per quello che sto per chiederti. Oddio! Vuoi... pagare il conto? Eh, minchia, pago sempre io. OJ, notizia bomba. Sono qui. Qui dove? All'anteprima del film. Ma di chi? Di alto, Giovanni e Giacomo sono qui con me. Le vuoi conoscere? Senti, Daniel, basta con queste cazzate, basta! Io non ne posso più! No, no, Giacomo, ma ti giuro che questa volta... Senti, dai, lasciami stare. Non mi chiamare più, eh. E niente, raga, non viene. Voglio dire, ma allora è vero a me, cioè, io... È un deficiente, dirlo, è un deficiente. Lei è venuto apposta per questo qua. Volevo proporgli, facciamo un film assieme, visto che questo qua è già fatto, ma adesso basta, giusto? Vabbè, andiamo avanti così. Cioè, ascolta, cioè... Ma io sono uscito apposta di casa per vedere... Beh, non ti sei vestito benissimo. Sei vestito di merda, tra l'altro. Mi devo incontrare il Papa, non ho capito. No, capito, è uno dei Pantella. Vabbè, anche se mi presento così dal Papa. A parte che è la stessa radice, Papa Pantella. Comunque adesso... A parte che l'ho visto, aveva una camicia inguardabile, quindi è meglio che non sia... Ma ascolta, ma adesso cosa dobbiamo fare? Devevo stare qui a aspettare? Odia. Odia. Io guardo la pubblicità, poi vengo. Ciao ragazzi, siamo i Pantella. Se questo era Scherzi, diventati a fare i tuoi amici. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su e arriviamo a 200.000 like per un nuovo video. Noi vogliamo ringraziare tantissimo Aldo, Giovanni e Giacomo per essere qui. Grazie. Io oggi... Grazie di cuore. No, ma mi ha ferito un'orecchia. Sì. Scusate, c'è un quiz, no? Indovina chi è vestito peggio? Tra questi due. Tra questi due. Mettere il pollice verso è che fa schifo. Ma io? Stai parlando di me? No, due l'ho. Cioè, i biggins e la stessa città... Maglione e camicia, comunque. Maglione, tocca. Il più elegante è lui. No, vabbè, vabbè. Guarda che ringrazio. A una prima... Io e il Giova siamo schiesti. Comunque guarda che... Certo stile, comunque... Ragazzi, è nelle sale. Siamo qui oggi perché è nelle sale. Odio l'estate. Il nuovo film di Adione di Giacomo. Quindi andate a vederlo, mi raccomando. Andate in massa. Tutti quanti. E noi ci vediamo prestissimo con tanti nuovi video e... Un saluto Pantegliano a tutti. Io pensavo che fosse il segno di Batman. E' un po' più strano al contrario. Sì, vedi.